nuove scioccanti rivelazioni sarebbero state diffuse dal pubblico ministero angioini sul caso della scomparsa di denise pipitone svanita ben 17 anni fa a mazzara del vallo e da allora mai più ritrovata secondo il pm denise sarebbe viva e mamma di una bambina a me danno la personale certezza che denise sia viva a una famiglia e anche una figlia sono documenti e foto che ho trasmesso solo alla procura della repubblica perché sono molto delicati queste parti della dichiarazione dell'angioini al programma televisivo storie italiane ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove adesso è inserita quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito prosegue si attende adesso la reazione della madre piera maggio con la speranza che dopo 17 anni potrà riabbracciare la sua amata denise secondo voi è realmente così scrivete nei commenti cosa ne pensate